La classe politica responsabile negli ultimi vent'anni dello sfacelo della sanità pubblica è entrata in gamba tesa sulla nomina del direttore generale Rinaldo Tordera, a imposto senza averne titolo un manager bravo ma senza competenze in materia sanitaria, fregandosene dell'elenco degli doni, attingendo addirittura dall'elenco della Lombardia, arrivando anche ad offendere i medici aquilani bollandoli come una lobby. Va giù duro, molto duro, Alessandro Grimaldi, segretario del sindacato dei medici a Nao dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, nel corso di una conferenza stampa convocata dai sindacati Cisle e Will, con l'intento di fare un'operazione verità non solo sulla nomina di Tordera, direttore generale dell'Asla Vezzano sul Monal Aquila, ma anche sul piano di riordino della sanità, imposto dal decreto Lorenzin, che in Abruzzo già solleva levate di scudi, per i tanti tagli e accorpamenti previsti. E proprio sul piano di riordino arriva la seconda bordata di Grimaldi. I parlamentari abruzzese, affermato, conoscevano da più di un anno gli effetti della riforma sulla sanità abruzzese. Non possono ora cadere dalle nuvole e urlare allo scandalo. La battaglia la dovevano fare a tempo debito in Parlamento. Il riferimento è anche la senatrice Stefania Pezzopane, che ha tenuto poco giorni fa una conferenza stampa a difesa dei reparti che rischiano di chiudere del San Salvatore. Tira infine alle somme Gianfranco Giorgi, responsabile sanità della CISD. La riforma Lorenzina ha spiegato che non può essere applicata in modo indolore ad una regione come l'Abruzzo, che ha solo 1,3 milioni di abitanti distribuiti in un ampio territorio, perché inevitabilmente si sguarniscono le aree interne. E infine snocciola l'elenco delle priorità da affrontare al neo-manager Tordera. Noi chiederemo molto, perché c'è molto da fare. Per esempio la pianta organica deve essere rivista, il completamento dell'ospedale, che ancora non bisogna ricostruire il delta medico, bisogna fare in modo che scompaiono i container dall'interno dell'ospedale, da Collemaggio. Quindi ci sono tante cose da fare. Bisogna fare in modo che non ci sia precarietà all'interno dell'Alz. Ditte non pagate o pagate con ritardi insostenibili, lavori ridotti all'umicino, fondi bloccati perché all'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere il titolare Paolo Esposito non ha ancora il potere di firma. Tanti e drammatici problemi che attanagliano le piccole ditte subappaltatrici, quasi tutte aquilane, impegnate nella ricostruzione post-sisma, che ieri hanno protestato in Consiglio Comunale all'Aquila chiedendo una svolta ed anche immediate modifiche al decreto antiterritoriale entrato in vigore ad agosto 2015. Massima solidarietà esprime oggi il sindaco di Barisciano e coordinatore dei sindaci del cratere sismico Francesco Di Paolo. La legge sulla ricostruzione concorda bisogno di modifiche e i subappaltatori vanno tutelati. Di Paolo poi torna ad augurarsi che finalmente la Corte dei Conti metta il suo timbro sul decreto che prevede il rinnovo del contratto di Esposito, riconfermato all'inizio gennaio. Senza quella avvidimazione Esposito non ha il potere di firma e di conseguenza non è possibile sbloccare ad oggi 9 milioni di euro per pagare le ditte impegnate nei cantieri e dare il definitivo via libera a progetti di ricostruzione dal valore di 20 milioni di euro. Guardi, sono pienamente d'accordo che qualche regola della ricostruzione sicuramente va cambiata perché questa regola che prescrive che il 30% possa riferirsi soltanto alla categoria prevalente può creare dei grossi problemi alle ditte artigiane della nostra zona, oltre al fatto che è previsto che anche per lavori sotto ai 150 milioni di euro è necessaria la sua A. Poi c'è la questione ad esempio molto grave del fatto che queste ditte non vengono pagate perché poi la ditta appaltatrice porta le fatture degli stati di avanzamento lavori al comune, all'ente che eroga il finanziamento con un'autocertificazione e poi non ha pagato dei subappaltatori, ecco questo deve cambiare. Beh, l'autocertificazione comunque se è falsa è un reato penale che andrà perseguito secondo le leggi dello Stato. Com'è la situazione della ricostruzione nei cantieri dei comuni? Guardi, è noto che abbiamo questa difficoltà per la nomina del dottor Paolo Esposito che speriamo che veramente nei prossimi giorni possa essere risolta. Comunque come sindaci ci stiamo organizzando perché forse è il momento di fare uno documento forte per portare a termine leader amministrativo di questo documento. In Abruzzo sono ospitati 1972 rifugiati politici e migranti economici ma solo 150 nelle strutture previste dal programma governativo SPRAR dove sono garantiti gli standard di qualità, opera personale con precise competenze ed esperienze e vengono effettuate rigorose rendi contazione dei soldi pubblici spesi. Parte da questa consapevolezza anche numerica la proposta del Partito Democratico dell'Aquila volta a mettere ordine e imporre regole all'accoglienza dei migranti in Abruzzo per evitare che diventi solo un'occasione di business da parte di operatori non all'altezza. Le regole, è stato spiegato, devono essere imposte con un'apposita legge dalla regione Abruzzo, una legge che prevede innanzitutto un'equirragionevole distribuzione dei migranti sul territorio, concordata a priori con i sindaci, tenendo conto anche della popolazione residente in ciascun comune e servizi in esse operanti. All'Aquila, per inciso, sono molte le proteste e le preoccupazioni per il paventato arrivo di 50 migranti nel piccolo borgo terremotato di Fossa. Qua noi siamo di fronte a due questioni, che riguarda la qualità non soltanto di chi viene accolto e quindi una qualità del servizio, ma anche e soprattutto una qualità di chi accoglie e delle comunità presenti sul territorio. È naturale che ci deve essere un raccordo fondamentale con i sindaci e i comuni nelle istituzioni locali affinché la distribuzione di questi migranti sul territorio sia una distribuzione seria per l'appunto, che possa garantire a loro una qualità del servizio e possa garantire ai cittadini una qualità della vita elevata, affinché possano essere messi in condizione di poter accogliere. In primis io credo che la prima cosa da fare sia una programmazione sul territorio dell'arrivo dei migranti che deve per forza avere degli indicatori, cioè nel senso che proviamo a fare una programmazione sul territorio che tenga in considerazione quelle sono le caratteristiche di un territorio e mi riferisco sia per esempio alla numerosità della popolazione in un territorio ma sia per esempio alla presenza di altri indici come possono essere per esempio i servizi che si possano dare, ma addirittura per esempio anche la composizione della popolazione stessa. La seconda cosa è quella di provare ad aumentare un po' il livello di qualità di quelle che sono gli enti che rispondono per esempio ai bandi delle prefetture per i centri di accoglienza straordinaria. L'espressione poteva essere una tragedia spesso, a volte troppo, usata e abusata, ma in questo caso un incidente che fortunatamente non ha avuto conseguenze per le persone avrebbe potuto provocare danni ben più gravi. È di tre feriti lievi infatti il bilancio della deflagrazione che ieri sera ha coinvolto un'automobile che si era fermata a fare il rifornimento di GPL nella stazione di servizio situata di fronte all'ex Siemens. Ferite la compagna e la figlia del proprietario del mezzo, entrambe a bordo dell'auto, e lo stesso uomo che era entrato nel tabaccaio a Tiguo per comprare le sigarette. La deflagrazione ha provocato danni anche alla pompa di servizio, con i pannelli della copertura che sono venuti giù e i vetri della tabaccheria lesionati e scheggiati dai componenti dell'auto che sono schizzati come proiettili. Solo per un caso, come ci spiega il titolare del distributore, non ci sono state conseguenze ben più gravi. Dunque il cliente ha fatto rifornimento presso la nostra stazione di servizio, poi si è allontanato per andare a fare spesa in un negozio qui vicino, è tornato dopo una mezz'ora, si è fermato davanti al tabaccaio per acquistare sigarette, in quel momento c'è stata sicuramente una perdita di gas dall'auto che ha causato una deflagrazione, non è uno scoppio ma è una deflagrazione quando il gas si accumula in sacche e quindi avviene la deflagrazione. meno male non è successo niente, neanche gli occupanti dell'autovettura che erano la figlia e la moglie del titolare non hanno riportato nessun danno fisico, quindi tutto si è concluso per il meglio. L'auto ovviamente era un'auto un po' vecchiotta, quindi le cause sono anche da ricercare in un impianto che è da molto tempo installato su quell'auto, quindi le cause possono essere anche ricondotte alla vetustà dell'impianto stesso.